Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Volevo dirvi come vedete sto cavallo ha sella e armatura E come vedrete fra pochissimo ci sono i diamanti Questo perchè avevo registrato un altro video In cui eravamo andati in un dungeon Avevamo trovato diamanti, un casino di ferro, redstone, lapislazuli, oro di tutto Solo il problema che era troppo lungo E non me lo lasciavo caricare Ops mi ha ballato una Dettagli Comunque oggi siamo in compagnia non di mia sorella ma di una mia amica Martina Eccola lì si è cambiata anche la skin Poi volevo mostrarvi ancora la mia skin dall'altra volta Eccola qua Adesso con l'aggiornamento Con l'aggiornamento si possono ottenere le frecce di dipesa Ston o cobblestone? Cucinata o no? No, è ston normale Eh, cobblestone Perché? Non lo so, è riuscito da solo Ah boh, eh, taglio un attimo Ok, eccoci qua Ho fatto un'altra mappa E in teoria Mi dice mappa 4 Però Vediamo se Vediamo Se è quella da Quella giusta Intanto lì c'è un creeper Che mi fissa in modo anomalo Guarda che vuole un sexy Guarda che ti vuole inquiscare Ma cosa fai? Eh, respingo Guarda che cambia sexy Ma vaffanculo Respingo la sua richiesta Ok, questa mappa Guarda che appena respa una Vuoi vedere Non è qui Vediamo Se è qui Ok, ok Intanto abbiamo tre Mi sono schiattata Ho perso tre cuori Perfetto Ti prendi la dai La stella Ah sì, vero Tieni Ma te la devi cuocere Allora No, aspetta Tieni Se ne hai ancora, grazie Sì, ne ho tante di più Ne ho un altro stack ecco cosa era con farci un altro stack di lana bianca cose molto insani comunque nella mappa del mondo siamo ancora qui un giorno ce la faremo direi che la cosa che vogliamo che devo fare la faccio proprio qui iniziamo con tre quattro cinque due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci 11 12 perché 12 no ma no non mi piace 12 perché 12 è il numero di ragazzi un attimo perché ok rieccoci qua c'erano stati dei piccoli problemi forse è un po troppo grande lo sto facendo sta cosa su serio perché non lo so ma che meno di pre c'è meno di quando proprio ma perché non lo so dipende se sotto a essere se tocchi della sarebbe anche giusto perché comunque c'è non ho cinque però io ho due cosciotte e in casa lì ci dovrebbero essere delle robe da mangiare nella cesta ma guarda oddio quanta e te l'ho detto per la mappa del mondo per ora ci rinuncio cioè la faremo però con calma tanto nessuno ci corre dietro potremmo potremmo potrebbe essere comunque la camera di prima era una bomba assurda cioè veramente c'erano poi ti sei suicidata già ok ecco forse dormi però dio ti vedo ciao io sto già dormendo vabbè taglia un attimo finché dormiamo ok eccoci qui comunque adesso vi mostro cosa volevo fare vabbè 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 lo dico volevo fare un tiro con l'arco tipo però devo colorare la lana mi so mi ero preparato dei coloranti però l'ha fatto mia sorella è schifoso c'è anche se sono 20 metri distante lo faccio rosa anche se non rispetti i colori ne frega niente che scrivono che scrivono eh lo so questo è d'altro vabbè vabbè c'è veramente schifo eh quello dei ciuchini i miei scritti sanno di cosa parlo bene mi sa cosa ho fatto il punto giusto perchè io amo i laghetti ho una dipendenza per i laghiettizialmente io sono razzista contro i laghetti vabbè? Perché sono troppo laghetti. Che basta. Però se non sono perfetti non mi piaccio. Ci devono essere... E' così che entrò Fiocco. Già. Attenzione allo sguardo sexy di Fiocco. Bene. E adesso... Ok, vediamo. Anche se sono... Ok, questa in teoria è uguale a quella di prima. Ok, vediamo. Il lilla me lo fa magenta, ma comunque... Ok. Io amo, amo, amo le case piccole. Io con le straenormiche. Sono una droga le case piccole. So che c'è qualcuno che mi capisce. Cioè, guarda quanti iscritti hai? 51. Beh dai. Pensavo per figlio. Perché le ultime volte che mi hai detto erano veramente pochissimi. Quanti? Io mi godo i... Io mi godo i... Mi godo qualsiasi iscritto. Io non faccio video per avere tanti iscritti. E per divertirmi soprattutto. Quindi a me non mi interessa. Cioè... Io mi godo ogni iscritto che prendo. Che sia uno, che sia cento. Io me li godo uguale. Ok, ora togliamo tutta sta terra. Yeah! Non avevo pensato che sarei caduto. Fail in Minecraft 2.0. Un altro fail. Non ho più cibo. Aspettate un attimo. Non mi ricordo il nome. Ok. Di margine. Ho preso da mangiare. Ora... Devo... Non ho più lana, quindi... Sarai più lama. Lana? Ah, ok. Lama. È più lama. Secondo me però è un po' troppo grande. È più lama e lama. E non la so, quindi... Quindi è una zottetta per le parole. Secondo il punto di c'è più lama, quindi... Quello è giusto. Almeno no. Ok, quindi... Sta troppo laggando, sta troppo laggando. Vabbè, oh raga. Io direi di abbandonare anche questo progetto perché sono molto... Direi che... Allora, ho fatto una tipo mega piantagione di canne da zucchero. Beh, mega. Beh, sì, abbastanza. E... Devo... Allora, qui ce n'è... Oh, bella. Sono cresciute tutte. Allora altre due mappe minimo le facciamo. Questa cosa non mi piace. Beh, dai, c'è male. Qui c'è. Fare dei primi... Ok, sei... Eh... Non so neanche dove sei ma sono dettagli. Vicino ai lama, sì, ai... Ma che si chiamano? Ai ciuchini. Ah, ciuchini. Ok, perfetto. Noi siamo andati casa, dietro casa. Allora, io... Quindi... Quindi... Io direi che ho proprio il sistema, questo. Dovrei... Dovrei... Dovrei andare... Verso di là... Superata... Tipo dai ciuchini che allora vedo... Ma è della lana? No, l'ho usata tutta. Me ne serve anche a me. Ma non ha neanche senso. Raga, io comunque dopo lo farò. Sto video ormai è giunto il termine, quindi... Mamma mia quanto sta laggando. Mamma, mamma mia. Non si vede niente. No, da me non sta tanto laggando in realtà. No, io... C'è tipo un... Ok. Un buco che sembra... La croce di satanistica. Ma perché... Ma non ci credo. Dimmi te se è normale, mi fa 20 volte la stessa mappa. Cioè, chi ha premuto di fare la mappa? Da quando in qua, saltando, fai una mappa? Ok. Come sprecare altri nove di carta. A me serve l'araca. Tanto l'araca. Comunque vengo lo stesso a vedere la tua opera d'arte. Sì, ma non è ancora finita, sono ancora inizio. E' che devo chiudere il video, quindi... A me non lo chiudiamo insieme. E di qua... Qui, qui. Vieni, poi. No, che nervoso. Ho pensato una cosa di colostone, l'avevo appena cotta. Ma dove sei? Vicino ai tuppini. Ah, ok, ho visto. Sembra una casa dei villager. Che nervoso. Non potete capire. Vieni qua che finiamo il video insieme. Dove sei? Ah, oddio, da lontano sembrava legno e invece... Oh, fa figo con l'arco e la freccia in mano. Ma gli altri ti vedono con la freccia in mano, no? Tu hai la freccia in mano. Io no. Mi vedi la freccia? Sì. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo. Lasciate i like, iscrivetevi al canale. E ciao a tutti.